musica 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 akuna matata ragazzi ben ritrovati in questo piccolissimo vlog di aggiornamenti sul canale allora so che purtroppo per voi stanno ricominciando le scuole si ricomincia a lavorare almeno per chi c'ha il lavoro io lo cerco ma non si trova vabbè perché lasciamo sempre queste cose comunque mi stavo a dire nuovi cambiamenti adesso si ritornerà all'orario invernale cioè i miei video verranno caricati alle 14 del pm cioè alle 14 del pomeriggio quindi non più alle 10 della mattina ma alle 14 del pomeriggio se non lo avete capito ve lo ripeto adesso i miei video non ci saranno più alle 10 ma alle 14 del pomeriggio perché comunque voi ritornate da scuola magari vi vedete una puntata di simpson e poi venite sul mio canale a trovarmi e a vedere qualche mio video quindi questo ve l'ho detto un'altra cosa che vi volevo dire che sicuramente avete visto dal titolo è che sta per arrivare un nuovo contest non è ancora iniziato state tranquilli inizierà tra qualche settimana ci sarà un gran bel premio ci sarà un gran bel premio rimanete sempre sintonizzati quindi ragazzi questo piccolissimo blog di aggiornamenti l'abbiamo fatto ricordatemi nuovamente sta per cambiare l'orario dell'uppate da domani cioè quindi domani che cos'è domani domenica 7 dovrebbe essere da venerdì 6 che è oggi che io sto registrando voi lo vedete sabato 7 da domenica 8 i video ritorneranno a essere l'uppati alle 14 del pomeriggio spero che il messaggio sia arrivato alle 14 del pomeriggio d'accordo? statemi bene ciao ragazzi ciao sono ciccio gamer se il video ti è piaciuto lascia il pollicione se no sei un corruo e se non lo lasci stai pur sicuro che prima o poi ti si incula un pacuro oh yeah si